e dove c'è il box chiedono aiuto e alla prima casa la vedete la sulla sinistra chiamate il box chiamate la locale ha in braccio un bambino prendetemi un picchio! si! c'è un bambino piccolo aiuto! c'è un bambino di grande aiuto! portame un sito al favore! e' un bambino! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.